No, no, guarda, no, io adesso, no, guarda che vi intristisco subito, subito! Dunque, è successo, credo, un paio di settimane fa, mi sono svegliato, sono andato alla finestra e a un certo punto ho visto, sulle pietre, delle piccole gocce d'acqua. Che lasciavano i puntini, no? Diventavano i puntini sulle pietre, cioè le gocce d'acqua e io facevo, ve lo giuro, ho fatto, ma che bello l'acqua! Ora, io avrò 63 anni, sono un po' rincoglionito, però la guardavo, quella pioggia lì, che disegnava la piastrella, com'è? Guardavo la neve quando era piccolo, quando era piccolo, che vedevamo la neve, ma ancora adesso, quando vediamo nevicare, no? Ecco, mi è successa la stessa cosa con la pioggia, che bella l'acqua! Siccità senza fine, sulle montagne c'è un terzo della neve, siccità in Emilia in vasi quasi vuoti e po' ai minimi. Vi ho entristito? Ok, ma infatti al nord, sai cosa dovremmo fare noi? Gli ombrelli, noi non dovremmo usarli più per ripararci, no! Dovremmo ribaltarli a conca e come in vasi raccogliere l'acqua. Per tornare alla normalità in pianura padana, ora dovrebbe piovere ininterrottamente da oggi fino a metà maggio. Siccità, all'appello mancano 50 giorni di pioggia, 50 giorni di pioggia. Farei sommessamente notare che nella Bibbia il diluvio universale è durato 40 giorni. Cioè, no, ma no! Per dire come siamo messi, noi qui stiamo sperando che arrivi Noè e che regga dieci giorni in più dell'altra volta e invece dell'Arca noi adesso siamo a questo punto qua. Questo è il Po di adesso, il Po a Ficarolo in provincia di Rovigo, il Po chissimo che è rimasto. Ormai il Po invece che navigabile è diventato carrabile. Ormai quello non è più un battello, è accatastato come bilocale con terrazzo e giardino che arriva fino al Polesine. Industria e agricoltura sono in crisi, tra l'altro noi in Italia siamo il primo produttore di riso in Europa e se c'è una cosa di cui ha bisogno il riso è proprio l'acqua, no? E se il riso è italiano, per la siccità, crollano le semine. La metà dei risotti che mangiano nel continente viene da Lombardia, Veneto e Piemonte. Se va avanti così il riso diventerà così raro che non si venderà a chili ma a carati. Quella, questo qua. Te lo serviranno da bulgari. Hai matrimoni col cazzo che tira il riso. Te lo mettono in un sacchetto e diventa il regalo dei testimoni. Naturalmente ogni regione adesso pensa di correre ai ripari, no? In Veneto c'è un'ordinanza che vieta lo spreco d'acqua. In Lombardia stanno pensando di chiudere le fontane e in Piemonte si sono già affidati ai rabdomanti. Si cita, arrivano le trivelle, si scava per trovare l'acqua, in Piemonte manca l'ottanta per cento di pioggia. Ora scusate amici pienontesi, lasciate stare le trivelle, dai state calmi, nessun problema perché come al solito i problemi dell'Italia li risolviamo noi genovesi. Vi abbiamo regalato i blue jeans, le banche, la scoperta dell'America, il pesto. E' buono, il pesto è buono. E ora vi regaliamo anche i dissalatori. Dissalatore bucci acqua al nord con le condutture per il petrolio. Grande, grande il sindaco bucci, che cazzo li hai detto? Vuole mettere un dissalatore a Genova, cioè togliere il sale dal mare e poi pompare l'acqua dolce in tutto il nord con i tubi esistenti che portavano il petrolio. Infatti che cazzo li hai detto? I primi bicchieri è meglio non berli, cosa c'entra? Perché poi rischi di avere l'alito che sa un po' di SUV. Però l'idea è geniale ragazzi. A Dubai e in Israele i dissalatori ci sono già e funzionano da Dio. Certo, la siccità in pianura padana sarebbe risolta. Resterebbe un piccolo problemino. L'ONU in aumento, la salamoia tossica, frutto dei dissalatori. Comunque si muova l'uomo, genera un casino mostruoso. E per forza. Causa e effetto per ogni litro d'acqua dolce prodotto, il dissalatore crea 1,5 litri di salamoia tossica, cioè di acqua ipersalata. Dove finisce la salamoia tossica? Generalmente nel mare, che quindi diventerebbe sempre più salato. Cioè, buona idea, ci mancherebbe, però la proposta di trasformare il Mar Ligure nel Mar Morto, ma non mi sembra così lungiminante. Oh, magari, no, sai cos'è che avere le acciughe vive già sotto sale? Ma è una figata, ragazzi, però. No, l'unica cosa è che quando ti tuffi a me mi va la pressione a 780. Cioè, ecco, io non so, cioè, è una questione complicata. E forse la soluzione non viene dal mare, ma dai monti. Mauro Corona sull'acqua ha le idee chiarissime. Non la usa.